non dire più che nasconda di che questo non fare più 800 mesi di amici perché non serve un cacchio perché ti dico anche un altro problema forza di far così che cosa succede che siamo a dicembre ci siamo già rotti le palle di sentire gli inediti i nuovi inediti i vecchi inediti 800 volte ormai li abbiamo già conosciuti basta quindi c'è io non ho visto né il modo di crescere né il modo di sviluppare la produzione io non ho visto niente ho visto solo dall'inizio questo tizio questo se il suo inedito c'è la gente che entra con l'inedito ma luca il problema il problema sai quando è nato e questo te lo posso dire con certezza perché io ero in warner è nato con i rama e certo perché perché i rama è stato il lascia passare verso tutta questa situazione che oggi ritroviamo ad amici i rama quando è entrato ce ne fu un altro ma era diverso virginia più che discografica era il caso di rama è stato clamoroso e te ne so parlare personalmente perché ripeto io ero in warner è un caro amico ammetto esatto quando filippo è entrato ad amici lui era sotto contratto con warner e tutta la manfrina che c'è stata è stata una presa per il culo nei confronti del pubblico che noi dagli uffici di warner guardavamo e non capivamo perché la domanda che noi facevamo sia a sarah sia marco era ma scusate ma perché non lo diciamo non capiva questa cosa non l'abbiamo mai capito